Piscano gli arbitri e comincia la settima giornata di andata del campionato nazionale di serie 2 di calcio a 5 all'estraforum di Prato il Prato in maglia azzurro scuro ospita l'Arsignano che ruba subito palle parte in contropiede attenzione il tiro gol immediato dell'Arsignano che ruba subito palle parte in contropiede attenzione il tiro gol immediato dell'Arsignano